Oh my god, oh my god Benvenuti su WatchMojo Italia ed ecco a voi la top 10 motivi per non giocare a League of Legends Motivo numero 1 Legends never die Motivo numero 2, la diarrea Motivo numero 3 Legends never die Motivo numero 4, il dolore lancinante ai testicoli Motivo numero 5 Legends never die Motivo numero 6, impiegare il tempo scopando è molto meglio che impiegarlo a giocare a League of Legends e cercare di diventare Platino 1 Motivo numero 7 Never die Motivo numero 8, cliccare il pulsante disinstalla col tasto sinistro del mouse è molto più divertente che stare un'ora e mezza a cliccare il tasto destro per muoverti di qua e di là Motivo numero 9, ah pensavi che avrei messo di nuovo la clip di me stesso che gioco a League of Legends e divento grasso ma la verità è che Motivo numero 10, devi letteralmente studiare per imparare a giocare Io non ho mai visto un gioco che ti richiede di studiare, di imparare a memoria ogni singola cosa Perché altrimenti tu non riesci nemmeno a entrare in partita che fidi direttamente quello che, porca puttana Tu non fai in tempo, letteralmente, a esistere! Motivo bonus Motivo bonus Motivo bonus